Buongiorno, sono molto onorata e molto grata di questo riconoscimento che accolgo anche in rappresentanza degli esperti della Commissione Tecnica Uni57 sull'Economia Circolare e dell'Enea, che da molti anni lavora su queste tematiche. L'Economia Circolare è un tema di grande attualità, è un tema centrale, costituisce un cambiamento d'approccio e di paradigma necessario per la transizione ecologica nell'ambito di un quadro di sviluppo sostenibile. Nel 2019 l'Uni ha avviato i lavori di questa Commissione in parallelo con i lavori della corrispondente Commissione ISO a livello internazionale numero 323. La normazione tecnica può rivestire un ruolo centrale per accompagnare questa fase di transizione attraverso lo sviluppo e l'adozione delle norme tecniche dedicate. Queste le norme tecniche sono realizzate con un lavoro analitico quotidiano di cesello degli esperti e delle commissioni e che è perseguito anche e soprattutto attraverso il raggiungimento del consenso tra tutte le parti coinvolte. Le norme tecniche sono quindi frutto di un lavoro condiviso di una comunità. Sono in grado quindi di garantire un approccio uniforme, un linguaggio comune per la transizione verso l'economia circolare in questo caso. L'impegno profuso da tutti gli esperti in questo lavoro è un impegno importante che se da un lato richiede una grande dedizione, dall'altro costituisce un'occasione di arricchimento umano e professionale. Grazie per questa opportunità.